benvenuti o bentornati a real crime anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale oggi per la precisione vi racconterò la storia di un serial killer molto famoso chiamato candy man il killer delle caramelle iniziamo siamo a houston la più grande città del texas nei primi anni 70 la città era al centro dello sviluppo industriale e commerciale per il sud ovest degli stati uniti d'america ci sono zone della città però meno moderne e sviluppate come i quartieri che si trovano a nord ovest di houston in particolare uno chiamato de aix una volta esattamente a fino ottocento de aix era una zona di alto livello abitata da persone di un alto ramo sociale col tempo invece ci fu una sorta di regressione fino ad arrivare appunto agli anni 70 il quartiere non era più ben abitato e spesso ci vivevano famiglie con dei problemi sia economici ma anche sociali molti adolescenti del quartiere erano infatti ragazzi problematici molti di loro scappavano di casa tant'è che alla polizia locale proprio da quel quartiere arrivavano spesso denunce di persone scomparse o meglio di figli scappati di casa de aix non era un bel quartiere dove vivere non rappresentava il periodo florido del resto della città di houston invece che stava proprio vivendo in quel periodo proprio il boom economico insomma quel quartiere era quasi una macchietta nella città di houston ora arriviamo alla giornata del 29 maggio 1971 dorothy eiligeist saluta suo figlio david di 13 anni e l'amico gregory di 16 che erano usciti di casa per recarsi in piscina la piscina si trovava proprio nel quartiere de aix i due ragazzi da quel giorno scomparvero erano scappati forse di casa come tanti altri ragazzi del quartiere quando non fecero ritorno a casa le famiglie ovviamente denunciarono le scomparse alla polizia ma la polizia non si preoccupò visto che all'epoca appunto era una cosa comune il fatto che i ragazzi sparissero di casa perché erano un po dei fuggiaschi i detective allora promisero alle famiglie di mettersi alla ricerca di david e gregory nel caso che i due ragazzini avessero saltato la scuola nei giorni successivi la madre di david però sapeva benissimo che suo figlio non era il tipo di ragazzo che faceva delle scappatelle era infatti molto diligente era tra l'altro anche bravissimo a scuola e comunicava alla madre qualsiasi suo spostamento insomma il classico figlio modello la stessa notte della scomparsa la signora winkle la madre di gregory riceve una telefonata da suo figlio quando preoccupata la donna gli chiede dove si trovi il ragazzo fa una lunga pausa e poi le dice siamo a freeport mamma ti ho chiamato per farti sapere dove sono così ti tranquillizzi nei giorni seguenti alcuni amici dei due ragazzi raccontarono alle autorità che in quel momento stavano interrogando conoscenti e vicini di casa di aver visto david e gregory salire a bordo di un furgone bianco a quel punto non vedendo un particolare aiuto comunque dalla polizia la famiglia a elegist decise di cavarsela da sola cercando il figlio e anche l'amico in tutta la zona di houston arrivando poi ovviamente fino a freeport dove il ragazzo aveva detto di essere andato per condurre le ricerche improprio decisero anche di assumere un detective privato e offrirono una ricompensa a chiunque avesse ritrovato i due ragazzi ma tutto ciò si rivelò poi totalmente inutile un amico di david un certo wine in lee ricordatevi questo nome perché poi dopo ne riparleremo si offrì di riempire la città di manifesti nella speranza che qualcuno potesse dare qualche indizio o avesse potuto vedere i ragazzi da qualche parte il 17 agosto quindi circa due mesi dopo la sparizione di david e gregory il 17enne ruben watson esce di casa per andare al cinema promette alla mamma e alla nonna di tornare entro le ore 19 30 ma purtroppo non tornerà mai più 10 mesi più tardi la sera del 24 marzo del 1972 frank aguir finisce il suo turno al long john silver's restaurant ed esce con degli amici ha promesso ai suoi genitori di ritornare a casa alle ore 22 ronda la ragazza che frank doveva passare quella sera a prendere con la macchina e che in quel momento frequentava lo attende però in vano tutta la serata frank infatti sparisce nel nulla qualche mese più tardi mentre al ristorante con dei suoi amici ronda viene avvicinata da un certo wayne anley vi ricordate chi è il ragazzo amico di david e gregory che si era proposto di attaccare manifesti in tutta la città il ragazzo che conosceva ronda perché comunque erano tutti un po parte dello stesso gruppo di amici porta la ragazza in disparte e le annuncia che frank non tornerà mai più si è messo nei guai con una piccola gang mafiosa ed è stato punito dice wayne però dice di non poterle raccontare di più perché quelle persone avevano minacciato anche lui nel giro di un anno erano dunque scomparsi quattro ragazzi dallo stesso quartiere the hicks e tra l'altro dello stesso gruppo di amici svaniti insomma senza lasciare nessuna traccia come era possibile i parenti e gli amici erano sicuri che non si trattasse di fughe o di atti di ribellione e la polizia invece per la polizia tutti questi ragazzi erano scappati avevano cambiato vita punto nei mesi successivi le scomparse di minorenni nel quartiere the hicks non accennano però ad interrompersi il 21 maggio 1972 il 16enne johnny de l'homme scompare insieme al suo amico 17enne billy bolch a tre giorni dalla loro scomparsa il signor bolch riceve una lettera da madisonville un paesino ad 80 chilometri da houston la lettera diceva questo cari mamma e papà mi dispiace averlo fatto ma io e johnny abbiamo trovato un lavoro come camionisti trasportiamo merci nella tratta houston washington ritorneremo nel giro di tre o quattro settimane fra una settimana comincerò a spedirvi una parte del mio stipendio per aiutare a casa vi voglio bene billy il signor bolch però faceva il camionista da moltissimi anni e sapeva benissimo che il tipo di lavoro indicato nella lettera ossia quella tratta commerciale non esisteva la famiglia di johnny l'amico riceve una missiva molto simile la graffia era chiaramente quella del loro figlio scomparso ma la lettera era troppo fredda e quasi professionale sembrava totalmente dettata da qualcuno dopo aver riflettuto a lungo sulle conoscenze dei loro figli entrambe le famiglie giungono ad una conclusione e ad un sospettato un certo david brooks il giovane david tempo prima aveva infatti provato a vendere della droga ai due ragazzi i bolch ricordarono inoltre un altro dettaglio molto importante quel gruppetto di amici era solito passare giornate intere a casa di un certo dean core cosa combinate tutto il giorno in quella casa aveva chiesto giusto qualche mese prima la madre di billy a suo figlio ascoltiamo musica tutto volume guardiamo la televisione e dean ci mostra delle cose bizzarre una volta ci ha fatto provare le sue manette ci abbiamo giocato a lungo fino a quando david brooks ha perso le chiavi decisi dunque ad andare fino in fondo alla faccenda i genitori di johnny e billy si presentarono all'ex pasticceria proprio di curry dean molto gentilmente spiegò loro che non vedeva i ragazzi da diversi giorni e che era a sua volta molto preoccupato la storia prosegue così fino all'agosto del 1973 con ben poche variazioni sul tema adolescenti che sparivano misteriosamente la polizia che se ne lavava le mani e le ricerche dei genitori che finivano tutte in un vicolo cieco la mattina dell'8 agosto del 1973 wayne hanley e tim curly lasciano casa curl e vanno a trovare ronda che nel frattempo è diventata la migliore amica di wayne la giovane ronda williams non se la passava molto bene in quel periodo sua madre era morta da qualche anno e suo padre era un uomo alcolizzato e molto violento anche quella serata di agosto il padre di ronda era ubriaco perciò wayne decise di aiutare la ragazza e di portarla nella sua casa adottiva di pasadina fuggiti attraverso una finestra e ovviamente con il favore della notte e del buio ronda wayne e team si danno alla pazza gioia per qualche ora e poi una volta ubriachi fradici si incamminano verso la casa dell'ex pasticcere curl nonostante ronda gli stia molto a cuore il giovane wayne hanley non ha idea del pericolo in cui la sta cacciando portandola proprio in quel posto soprattutto senza dirlo allo stesso curl i tre adolescenti arrivano dunque a casa di dian curl alle tre del mattino appena l'uomo si accorge dell'inaspettata ospite si infervora e comincia ad urlare contro i due ragazzi per poi calmarsi improvvisamente al punto addirittura di proporre una festicciola così tra una canna e una birra il gruppetto si scatena per molte ore fino a quando sprofondano tutti in un giorno pesante a questo punto però succede qualcosa di terribile il risveglio di wayne non è infatti dei migliori il ragazzo si sveglia e si accorge immediatamente di avere i polsi ammanettati mentre le sue caviglie erano anche ben legate grazie all'esperienza maturata in quel periodo il giovane sa bene che da lì a poco lo attenderanno delle dolorose torture e una morte liberatrice ebbene sì lo sa ma perché e allora facciamo un passo indietro chi è dean curl dean curl nasce il 24 dicembre del 1939 a fort wayne nell'indiana da arnold e mary curl quello dei suoi genitori non è un matrimonio felice i due divorziano quando dean appena sei anni ed è mary ad ottenere l'affidamento di dean e di suo fratello stanley nel 1950 curl decidono di ritornare insieme così l'intera famigliuola si trasferisce a houston nel texas la felicità familiare ritrovata però non dura molto nel 1952 arnold e mary divorziano nuovamente nonostante questa seconda rottura dean rimane in ottimi rapporti con suo padre gli telefona spesso e instaurano una sorta di corrispondenza nel 1953 mary ha già trovato un nuovo marito un commesso che porta con sé la figlia avuta da una precedente relazione mentre i problemi familiari si evolvono a dean viene diagnosticato un soffio al cuore che spezza tutti i suoi sogni di gloria sportivi il ragazzo però non si perde d'animo e di rotte i propri interessi sulla musica fino a diventare il suonatore di trombone nell'orchestra del liceo nel 1957 mary si inventa un business dal nulla impasta e cucina dei dolci alle noci poi li mette in vendita dean l'aiuta raccogliendo le noci e consegnando a domicilio i dolci il giovane curl è educato con tutti i clienti molto molto gentile comprensivo e affettuosissimo con i bambini esegue ogni ordine e non mette mai in discussione ciò che sua madre gli dice di fare gli affari vanno avanti fino al 1960 quando dean lascia la città per recarsi ad indianapolis a prendersi cura della nonna appena rimasta vedova insomma un santo ragazzo torna a houston nel 1962 giusto in tempo per trovare il garage trasformato in una pasticceria di successo dean ricomincia a coprire il ruolo di vice di mary e ben presto abbastanza soldi per costruirsi un appartamento sopra il garage pasticceria non era comunque una vita molto leggera la sua di notte impastava i dolci con la madre di giorno timbrava il cartellino alla houston lighting and power la grande azienda dove diventa elettricista nel 1964 viene arruolato nell'esercito ma dura ben poco lo congedano perché è un ragazzo che a quanto pare si affatica facilmente tornato nuovamente a casa dean riprende ad aiutare sua madre nella produzione e nella vendita di dolci e caramelle gli affari vanno sempre meglio tanto che la piccola fabbrica a conduzione familiare è costretta a trasferirsi in uno spazio più grande nel nuovo quartiere ci sono moltissimi bambini ai quali dean è solito regalare dei dolcetti oramai infatti per tutti gli abitanti della zona dean era diventato il buono e generoso candy man nel 1968 mary esce malamente dal quarto matrimonio ed è costretta purtroppo a chiudere la fabbrica di dolci si trasferisce in colorado dove rincomincerà da zero e con successo la propria attività con il business dei dolciumi uscito dalla sua vita dean si concentra poi totalmente sulla carriera da elettricista e ora torniamo al gruppetto di amici nel 1970 david brooks presenta a dean wayne anley wayne è un 14enne brufoloso disinteressato allo studio e con problemi di alcolismo viene da una famiglia divorziata e con gravi problemi finanziari perciò è costretto a svolgere ben tre lavori al giorno una volta aveva anche tentato di arruolarsi nell'esercito ma fu scartato perché non rispettava i requisiti minimi di istruzione ossia la seconda media l'altro amico invece david brooks è nato nel 1955 a beaumont nel texas come quelli di wayne e dean anche i sui genitori sono divorziati fin da quando aveva cinque anni l'influenza di curl su david è tale che qualche anno dopo riesce addirittura a fargli abbandonare definitivamente la scuola il trio era dunque formato dean david wayne non si separeranno più i due ragazzi dormivano spesso in casa di dean oppure giravano con lui a bordo del suo furgone bianco ebbene sì proprio quel furgone bianco dell'inizio i tre si recavano nei luoghi di ritrovo di altri adolescenti si comportavano come dei grandi amici anche se tra di loro c'erano all'incirca 15 anni di differenza nonostante questa scarsa omogeneità non sono in molti ad accorgersi del particolare trio nella sottosocietà degli adolescenti dean wayne e david sono i classici perdenti gli sfigati che nessuno nota se non di sfuggita ora però ritorniamo alla serata alla nottata anzi dell'8 agosto 1973 abbiamo detto che wayne si sveglia con le manette ai polsi e con le caviglie legate dall'altra parte della stanza tim e ronda giacciono a terra denudati e legati del nastro isolante serra la loro bocca vi ucciderò tutti strilla curl ma prima mi voglio divertire un po prima di cominciare l'uomo propone un patto a wayne anley se gli darà una mano a torturare violentare uccidere i due sventurati avrà salva la sua vita il giovane accetta ovviamente viene liberato gli vengono consegnati un pugnale e una pistola calibro 22 soddisfatto curl conduce tim e ronda in una delle camere da letto quella dove ha installato il suo asse di compensato per le torture ebbene sì un asse di compensato dopo aver sistemato i due ragazzi sull'asse dean rimuove il nastro dalla loro bocca e invita wayne a strappare i vestiti della ragazza con il pugnale mentre il giovane wayne si piega per bisbigliare nell'orecchio di ronda che tra poco sarà tutto finito curl cerca in tutti i modi di fare violenza sessuale su team ma senza riuscirci il ragazzo è molto forte infatti e si dibatte come un senato resistendo così ad ogni assalto dell'ex pasticcere perverso ed è a questo punto che furibondo e frustrato dean curl volta la testa verso wayne e si accorge però di avere la pistola puntata verso la sua testa uccidimi wayne uccidimi non ce la farai mai non sei abbastanza coraggioso alle 8 e 30 di mercoledì 9 agosto la stazione di polizia di pasadina riceve una telefonata da un ragazzo isterico e wayne anley l'agente ab jamison si dirige all'indirizzo indicato al 20 20 di lamar drive di fronte ad una casa verde trova tre adolescenti due ragazzi e una ragazza fermi in piedi davanti alla porta in sua attesa uno dei ragazzi un giovane snello dai capelli castani e con una barba appena visibile si fa avanti e si presenta come wayne anley ha appena ucciso il suo amico dean curl il corpo è in camera da letto steso sul pavimento il 33enne elettricista è stato colpito a morte da sei proiettili che gli si sono conficcati nella testa nel torace e nella spalla il suo corpo viene spedito all'obitorio mentre i tre adolescenti vengono condotti alla centrale per l'interrogatorio di rito i detective incaricati di esaminare la scena del crimine vedono subito qualcosa di molto strano sul pavimento ci sono un vibratore una baionetta con coltello dei pezzi di vetro del nastro isolante della gelatina di petrolio nel capannone situato nel cortile posteriore viene rinvenuta una grossa scatola di legno compensato con sopra dei fori dei buchi all'interno della scatola verranno trovati dei resti ossia diversi capelli umani e anche tracce di sangue secondo i vicini di casa curl era una persona tranquilla e insospettabile alla centrale di polizia wayne vuota subito il sacco dean era omosessuale con tendenze pedofile lui team e altri amici fidati erano letteralmente pagati per procurargli delle giovani vittime che curl se viziava uccideva e poi seppelliva in una rimessa per barche gli investigatori però presero inizialmente con le pinze questa versione dei fatti dalle dichiarazioni dei genitori di curl emergeva infatti la figura di una persona molto rispettabile un uomo che adorava i bambini ed era generoso con i giovani in generale sempre secondo i genitori di curl probabilmente i tre adolescenti avevano approfittato della disponibilità e dell'ospitalità di dean e drogati ubriachi lo avevano ucciso senza un particolare motivo effettivamente la polizia non aveva prove effettive su possibili problematiche mentali di curl ma c'erano degli elementi a cui non si poteva passare sopra c'erano gli strumenti di tortura trovati nella casa di curl che lasciavano aperti ancora molti punti interrogativi poiché gli interrogatori ai vicini e i conoscenti non portarono a niente gli investigatori decisero di seguire wayne hanley presso la rimessa per barche dove secondo il ragazzo dean curl avrebbe seppellito almeno tre delle sue vittime dopo aver percorso molti chilometri il gruppetto giunse finalmente al southwest bot storage di silver bell street il posto era molto buio e non c'erano finestre sul pavimento c'erano due tappetini rovinati uno verde e uno blu a sinistra delle entrate era presente un enorme scatolone vuoto la carcassa di un'automobile giaceva invece dall'altro lato semicoperta da un telone in un angolino venne trovata una borsa di plastica contenente un sacco per il cemento vuoto nonostante del calore a foso di agosto che li avvolgeva gli uomini cominciarono a scavare il lavoro si fece ancora più duro quando dopo qualche spalata il terreno diventava letteralmente uno strato di cemento dopo altri centimetri di scavo ad un certo punto le autorità trovarono un sacco di plastica trasparente al suo interno c'era il corpo nudo di un ragazzino che dimostrava circa 13 anni sotto il corpo del ragazzino venne poi ritrovato uno scheletro perpendicolarmente allo scheletro c'erano i resti in decomposizione di altri due adolescenti mentre i media iniziavano a spargere la notizia per sconvolgere un po la nazione gli scavi continuarono allo scoccare della mezzanotte i corpi recuperati erano otto gli aili gaste la signora winkle i bolsch i delom e molti altri genitori cominciarono a capire come mai i loro figli non fossero più tornati a casa il giorno seguente mentre i lavori di riesumazione proseguivano la polizia decide di reinterrogare wayne hanley il giovane pentito assicuro loro di non aver mai partecipato né alle torture né agli omicidi ma mise di essere stato testimone di tutte le atrocità nel frattempo si presentò anche david brooks anche lui desideroso di confessare tutto quello che sapeva così grazie alle confessioni di david e wayne le forze dell'ordine riuscirono finalmente a ricostruire nel dettaglio tutte le atrocità commesse e diedero un senso finalmente alle sparizioni di quegli adolescenti dopo una settimana in interrotta di interrogatori wayne finalmente crollò e ammise anche di aver preso parte alle torture e di aver anche ucciso a volte delle vittime le potenziali vittime dovevano essere giovanissime e di bell'aspetto curl hanley e brooks le avvicinavano sia individualmente che tutti e tre assieme i due giovani adolescenti avevano attirato nella tana del lupo anche dei loro amici di infanzia nonostante sapessero verso quale fine li stavano conducendo stuprati castrati a diverse vittime erano stati infatti rimossi genitali seviziati e torturati in ogni modo fino alla morte alcuni morivano sotto tortura altri venivano sgozzati o pugnalati a morte altri ancora venivano presi a calcio e pugni fino alla fine a solo due giorni dall'inizio delle investigazioni grazie agli scavi nella rimessa delle barche il conto delle vittime ammontava già a 17 quando wayne indicò altri due luoghi di sepoltura ossia lake same rayburn e high island i cadaveri disseppelliti arrivarono a quota 27 una cifra enorme considerando che fino a poco tempo prima il record americano spettava al killer yuan corona con le sue 25 vittime il processo wayne hanley e david brooks cominciò pochi giorni dopo sin dalle prime battute si intuì che i due ragazzi miravano ad una soluzione per l'omicidio di dean curl chiedevano infatti di essere considerati come delle potenziali vittime future di candy man nonostante questi tentativi e nonostante l'attenuante data dalle loro confessioni i due giovani non riuscirono ad evitare una pesante condanna wayne fu condannato a sei ergastoli david ad uno attualmente ogni tre anni i due ormai ex teenagers avanzano la richiesta per il rilascio sulla parola domanda che puntualmente viene respinta dal tribunale ogni volta che si tiene un'udienza per discutere della richiesta di rilascio sulla parola di hanley e brooks i coniugi scott genitori di una delle vittime siedono solennemente sempre in prima fila wayne hanley dietro le sbarre si è dato alla pittura e ritrae soprattutto fiori e paesaggi probabilmente se wayne fosse stata una persona non conosciuta questi quadri probabilmente sarebbero rimasti lì in prigione o finiti al mercatino delle pulci invece essendo stato wayne uno complice di uno dei più famosi serial killer americani i suoi quadri e questa cosa è assurda vengono venduti su ebay a cifre esorbitanti nel texas infatti non esiste una legge che vieti di speculare sulla notorietà criminale come accade invece in altri stati la storia del serial killer dean curl termina qui io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di real crime